bene a tutti sulle pesciolini benvenuti in questo nuovo video sono se lasciati di tana shucks oggi siamo qui su fortnite e ragazzi mi scuso se in questi giorni cioè se in queste due settimane non ho fatto video non ho fatto video ma ho avuto dei problemi quindi ha avuto dei problemi quindi non potevo registrare e niente aspetta bisogno del uffa gioco con input sensibilità dovrò un po mentala perché è troppo veloce e niente adesso qui su fortnite io ho anche battleground solo che vi volevo mostrare io sono un cesso sia un che è l'altro solo che vi volevo mostrare prima dei video uno di fortnite e uno di battleground poi farò una mini recensione diciamo dicendo che cosa ne penso io di fortnite e di coso vi dico io sono veramente un cesso sono quelli che muore tipo al 792 io sono il novantesimo a morire ecco praticamente perché faccio schifo come la cacca e faccio veramente schifo purtroppo se soprattutto su battleground su battleground vabbè no no dico perché sennò mi ciulo il video quello quello della recensione diciamo quindi non lo dico se non lo suolo ecco appunto quindi ora scendiamo qualche sembra non ci sia nessuno non è una buona cosa scendi bugia c'è un tipo meglio che prima ma non so perché il mouse mi sta facendo rincronire ragazzi non capisco che cosa succede dal mouse ok così va un po meglio va lo ha giustato dalla dal mouse dire direttamente ok ammazzano ragazzi non so come poi aveva fatto ad ammazzarlo vi giuro che muoio sempre la prima colpo solo che non sento non non esco capire perché ah giusto perché è bagato se gioco migliori dimenticato quindi ovviamente sto senza aia 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 no 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 dove dove essere morto come come vi ho detto ragazzi faccio schifo dai non non faccio solo una perché sarebbe imbarazzante se è durato un minuto il gioco relazione vi dico tanto sicuramente farò schifo anche questa ragazzi se sentite tipo è perché c'è un cano in braccio quindi c'è il cane di mia sorella in braccio quindi diciamo che potreste sentirlo vero vero lì davvero niente è niente uno sfogo per alcuni che hanno domandato anche perché mario non sta facendo più video praticamente lui è impegnato è impegnato in in una grossa azienda quindi è stra impegnato non riesce per video quando riuscirà a farne uno lo calo caricherà speriamo a breve però ovviamente il lavoro se dice no e no cioè non può farci niente il lavoro comando purtroppo è niente partiamo siamo 99 che io sarò il nonno ha comunque come ho detto in che posto sono finito non vantesimo cioè quello di ucciso poi io a bull non lo so vado sta che sono finito di uno è capito adesso se le baia lilia sta zitta lilia lilia scitta ragazzi se sentite il cane non ecco famiglia quindi scusatemi ma è causa di forza maggiore ecco lì è bugia sarà tanta gente quindi non ci vado più me ne vado in queste casette sceme tipo qui c'è una casetta me ne vado qua a me piace andare in queste casette qui sconosciute perché è zitta lilia e che non c'è mai nessuno magari si trovano delle armi alla fine su fortnite cioè su battleground non lo puoi fare in realtà perché ci sono solo certi posti spavano armi decenti qui data ogni anno può vincere contro un'altra in realtà non come su battleground che se prendi il croccia è praticamente vinto la partita o quasi però ovviamente certo se poi se un mister liceo qualcuno che spacca qui c'è un altro con fucile fucile fugi fucile 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 questa sono non so perché poi c'è solo non sono così è questo il problema di battleground e di fortuna per me non riesco a ammirare non capisco motivo sembra un celebro leso di quelli celebro lesi c'è guardate l'ucciso sembra veramente cineboli ho spiegato tutte le munizioni tutte faccio schifo al cazzo volo c'è ragazzi fa faccio 20 schifo oppure dovrebbe essere una delle armi più forti queste ragazze lo sapete però come ha visto schifo non so perché non riesco proprio a ammirare né qua il sub e nessù battleground qui ne stavo un altro anzi qui in realtà ve lo dico anche se uno spoiler qui riesco a migliare meglio di battleground cioè giusto per informazione vostra l'idea giusto per vostra informazione diciamo quindi su battleground mi vedete ancora più c'è qui qualche partita l'ho vinta sinceramente su battleground sono arrivato quarto ma in squadra ogni volta o non so come io l'ho ucciso io ho un punto vita come cacchio faccia vince un cacchio faccia per qualcosa ora ho un mezzo punto vita 8 capiccio e ragazzi voi non pensate che io stia giocando bene che non sto giocando bene cioè ragazzi pensateci quello stava con una pistolina e quest'altro stava con un fucile di merda con quella mitra di essere morto perché sono stupido giustamente sono morto e beh ragazzi il video finisce qui lo so che è stato una merda perché sono morto sono scattato due volte ma purtroppo quindi ha diviso che su fortnite no non posso fare i video perché muoio in instant proprio e beh che dico ragazzi ci vediamo in questo video beh ragazzi ciao